Svastiche ed incitamenti alla violenza incisi sulla panchina rossa di San Giovanni Valdarno, simbolo della lotta al femminicidio e più in generale ad ogni tipo di maltrattamento contro le donne. A darne notizia il sindaco Valentina Vadi, che ha definito il gesto non un semplice atto vandalico, ma un messaggio che spaventa e fa riflettere. Sulla panchina rossa, dove campeggia, il messaggio di speranza non sei sola e il numero 1522 del centro antiviolenza, adesso, oltre alle svastiche incise con un oggetto appuntito, è stata impressa anche la scritta Viva la violenza. Provo un profondo dispiacere e un forte rincrescimento nel vedere quella panchina rossa, la stessa sulla quale pochi giorni fa, in occasione dell'8 marzo, ho deposto un mazzo di fiori, essere così deturpata, commenta il primo cittadino. Atti di questa natura sono da condannare con forza e senza esitazioni. Perché la nostra è una città aperta al dialogo, solidale e rispettosa dei valori fondamentali dell'individuo e non possiamo prestare il fianco ad episodi di questo tipo. Risistemeremo tempestivamente la panchina, conclude il sindaco, con l'auspicio che atti così vergognosi non si ripetano più. Condannare questi gesti è un dovere. Infine, scritto in un post su Facebook, Maria Elena Boschi, solo un piccolo uomo può scrivere un'assurdità di questo genere. Bene ha fatto la sindaca Valentina Vadi a reagire subito. Io sono dalla sua parte.